Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco, dicendogli «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose «Rabbuni, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Il Vangelo ci racconta e ci rende partecipi di un incontro dalle conseguenze particolarmente felici tra Gesù e un uomo cieco fin dalla nascita, Bartimeo. Uso la parola incontro perché quanto abbiamo ascoltato è ben più di un racconto di guarigione. C'è come la narrazione di un cammino di ricerca e di fede che diventa sequela. Ciò che appare decisivo nel racconto è la fede di quest'uomo, una fede che si articola in diverse azioni che assumono un valore paradigmatico per il cammino di ogni discepolo. Le richiamo brevemente. Cominciò a gridare, dice il Vangelo. Bartimeo è un uomo cieco, è un ammalato che non prova vergogna però della sua situazione e si mette a gridare il suo bisogno perché ha intravisto una possibilità. Abbi pietà di me. La strada della fede nasce dalla scoperta della propria povertà e dall'umile confessione a Dio di chi noi siamo realmente. Continua ancora il Vangelo ma egli, Bartimeo, gridava più forte guai se nel nostro cammino di ricerca ci stancassimo fermandoci alle prime difficoltà. In un certo senso possiamo quasi dire che Dio stesso ci mette davanti degli ostacoli per provare la sincerità, la profondità della nostra ricerca. spesse volte ci sembra che il nostro grido verso Dio si perda nel silenzio eppure non c'è orecchio più attento di quello di Dio. Ancora il Vangelo gettato via il mantello balza in piedi. Crede nell'efficacia della parola del Maestro prima ancora di averne sperimentato l'effetto. Ecco, finché restiamo legati a noi stessi e ai nostri ragionamenti alle nostre comodità ai nostri affetti saremo sempre degli indecisi delle persone che si fermano a metà degli scontenti dei rassegnati alle solite situazioni e alla fine potremo quasi dire saremo dei falliti. Tutto parte e ruota attorno a quella confessione abbi pietà di me sono poche parole ma non sono le parole di un disperato non sono le parole di un emarginato sono al contrario il grido di quella fede che rende possibile il miracolo e Gesù lo sottolinea va la tua fede ti ha salvato notate Gesù dice salvato non solo guarito essere salvati è molto di più che essere semplicemente guariti si può essere guariti ma non salvati e il segno della salvezza è la decisione di seguire Gesù per sempre riacquistò la vista e prese a seguirlo per strada l'uomo ricco di qualche domenica fa se ne era andato triste aveva detto di no alla proposta di una sequela definitiva Bartimeo invece intuisce che il vero miracolo è avere incontrato Gesù e manifesta il desiderio di non staccarsi più una vita è realizzata ed è vera quando è cammino fiducioso e gioioso insieme con Cristo quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion ci sembrava di sognare allora la nostra bocca si aprì al sorriso la nostra lingua si sciolse in canti di gioia allora si diceva tra i popoli il Signore ha fatto grandi cose per loro grandi cose ha fatto il Signore per noi ci ha colmati di gioia riconduci Signore i nostri prigionieri come i torrenti del Negeb chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo nell'andare se ne va e piange portando la semente da gettare ma nel tornare viene con giubilo portando i suoi covoni chiamati a i i i i i i Grazie.